Dove vanno, dove vanno le renne quando han finito di portare le strenne quando ormai è passato il Natale le renne si mettono a riposare le renne vanno subito a riposare e che fanno, poi cosa fanno come passano il resto dell'anno, leggono storie, giocano a carte, aspettando quando si parte, e aspettano quando si parte. E tutti i giorni fanno l'allenamento per volar via quando arriva il momento E tutti i giorni fanno l'allenamento per volar via quando arriva il momento E tutti i giorni fanno l'allenamento per volar via quando arriva il momento E tutti i giorni fanno il momento E tutti i giorni fanno l'allenamento per volar via quando arriva il momento